Cosa pensiamo tutti se sentiamo la frase da oggi mi metto a dieta? Che domande, sacrifici e rinunce! Già, ma da oggi non sarà più così. Uno studio recentissimo ho trovato la chiave per dimagrire velocemente anche senza fare niente. Sarà la solita pillola miracolosa, costosissima! No, anzi, questo è proprio gratis! Lo studio è stato pubblicato in UK nel settembre 2017 ed è uscito su Molecular Metabolism, una rivista scientifica. La scoperta è sensazionale e riguarda i meccanismi neurologici che regolano l'appetito e la sazietà. Il professor Nicholas Dale della University of Warwick ha studiato le reazioni dei neuroni cerebrali che controllano il senso di sazietà per capire come attivarli a comando per aiutare le persone a dimagrire mangiando, senza patire la fame, senza soffrire per le rinunce e senza sensi di colpa. Come dici? Sembra un miracolo? No, è pura scienza, state a sentire! Ecco il risultato sorprendente dello studio. Il senso di sazietà viene attivato da neuroni specifici chiamati tanniciti o tannicides. Questi neuroni sono in grado di capire quali aminoacidi abbiamo assunto col cibo e attivare il senso di sazietà di conseguenza. È la prima volta nella storia della medicina moderna che questi neuroni vengono scoperti e si capisce come funzionano. Interessante, ma io come faccio a dimagrire? È facile, è gratis! Ci sono due aminoacidi che aumentano il senso di sazietà più rapidamente. Sono gli stessi che ci fanno sentire il sapore umami tramite le papille gustative. A che lingua stai parlando? Umami è il quinto sapore definito in Giappone dopo dolce, salato, amaro e piccante. Corrisponde a saporito e contiene gli aminoacidi della sazietà. Ecco quali sono i cibi sani che lo contengono. Per chi non è vegetariano, sgombro e pollo. Per tutti, prugne, albicocche, mandorle, avocado, lenticchie. Mangiare questi cibi a ogni pasto, a rotazione, aiuta ad aumentare il senso di sazietà, quindi a mangiare di meno, più sano e a dimagrire senza patire la fame o soffrire, perché non siamo mai soddisfatti di cosa abbiamo mangiato. Mangia sano, vivi meglio e dimagrisci facendoti del bene. In descrizione trovi il link ai miei libri ed ebook. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale, il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, attiva le notifiche, condividi. E grazie per aver guardato questo video. Ciao!